Si comincia a far chiarezza sul movente che sabato scorso ha scatenato la lite all'interno della famiglia Cocco, incontrata a San Giuseppe a Britoli con il tragico epilogo della morte del capo famiglia Cesidio di 74 anni, colpito a morte dal figlio Massimo intervenuto per salvare la madre Cleonice di Sano. E proprio la signora Cleonice, dal letto dell'ospedale dove si trova ancora ricoverata nel reparto di neurochirurgia, anche per la rottura del setto nasale, a fornire la prima ricostruzione dei fatti agli inquirenti, riportando lei stessa la frase, se non fosse arrivato mio figlio sarei morta. Una situazione familiare precaria ormai da diverso tempo, visto che la coppia viveva separata in casa insieme all'ultimo dei quattro figli con problemi di disabilità e proprio la pensione e l'indennità di accompagnamento dell'ultimo figlio della coppia sembra essere stato il movente dell'ennesimo litigio. La discussione, animatasi in modo violento, intorno alle 8 e 30 del mattino richiama l'attenzione di alcuni vicini che subito non avvisano i figli. Massimo è il primo ad intervenire, poiché abita a pochi metri dall'abitazione dei genitori. Alla vista del figlio, Cesidio cambia obiettivo, anche a causa di vecchi problemi per cui il rapporto con i figli si era incrinato. Qui si innesca una violente colluttazione che porterà alla morte del pensionato. Il secondo figlio, arrivato poco dopo, avviserà i soccorsi. Il figlio Massimo, dopo essere stato ascoltato per tutto il pomeriggio di sabato dal PM Andrea Papalia, al quale è affidata l'indagine, adesso si trova sotto inchiesta per omicidio aggravato, ma la sua ricostruzione dei fatti è sembrata subito veritiera e per questo si trova fuori dal carcere. Per lui si sta vagliando l'ipotesi della legittima difesa. Intanto, nelle prossime ore, dopo un primo esame del medico legale, il dopo Lidoro, presente sabato sul luogo dell'omicidio, insieme al magistrato per una prima ricognizione, sarà effettuata l'autopsia, da cui si potrà capire meglio se la morte sia avvenuta a causa dell'impatto con la sedia utilizzata da Massimo per colpire Cesidio o per la presenza di lesioni interne.